Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e intanto buona domenica a tutti e oggi signori, essendo domenica, siamo in una tipologia nuova di video, signori nel frattempo mi vedete gesticolare, vedete le ombre, potete fare le ombre cinesi aspetta, potete fare il... aspetta, vaffanculo allora signori, in una nuova tipologia di video che sicuramente avrete già capito dal titolo e dalla descrizione ovvero signori, oggi essendo domenica proviamo a fare un nuovo video ovvero ci dilettiamo col grattevingi, signori, signori proveremo a grattare, mi è venuta voglia di grattare, proveremo a grattare, signori ma prima di partire col video, io vi ricordo di iscrivervi al canale vi ricordo di... vi ringrazio per i like, per i commenti, per i giugionati e per il supporto vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Instagram che su Facebook e vi ricordo, altra cosa importante, di seguirmi anche sul sito Viola, quello delle live in cui ogni tanto ci dilettiamo a fare live e a giocare assieme detto questo signori, non perdiamo altro tempo e partiamo con il video allora signori, cosa fondamentale alla base di questo video, ovvero non giocate mai grattevingi io lo sto facendo tanto per passare un tempo un po' con voi, per rilassarci e per giocarellare ma non giocate mai grattevingi perché sono soldi persi, difficilmente possiamo riuscire a vincere allora cosa ci andiamo a grattare noi oggi signori, io ho speso 5 euro e ho comprato 5 grattevingi grattevingi per 1, 2, 3, 4 e 5, 5 grattevingi da 7 e mezzo 1 euro l'uno proprio ho fatto l'acquistone del mondo, non vinceremo mai una cippa di nulla ma chi se ne frega totalmente signori, dai dai divertiamoci, divertiamoci allora per prima cosa stacchiamoli senza distruggere, aspettate che devo tenere l'inquadratura a vista perché sennò dico che stiamo a fa' non sono abituato a fare i video in questa maniera quindi ho un attimino di intotto, 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 allora andiamo a prendere anche questo e la separazione dei grattevingi è riuscita signori, la separazione dei grattevingi è riuscita, potrebbe anche essere un video ASMR signori, attenzione, silenzio, silenzio bah che rumore grazioso, allora abbiamo i nostri 5 grattevingi, abbiamo il nostro, attenzione niente ne va più, niente ne va più signori, niente ne va più, scegli la tua carta, no questo è un altro gioco, abbiamo il nostro soldatino che ci porterà fortuna in questo video in cui non vinceremo assolutamente niente, abbiamo il nostro soldatino che lo mettiamo qui, si vede si perfetto, abbiamo la nostra moneta da 1 euro signori, l'unica cosa che mi è rimasta in tasca dopo aver comprato i grattevingi e stiamo pronti per iniziare a grattare, allora signori tutti conosciamo, il soldatino, il soldatino qui, bello, carino, tutti conosciamo i grattevingi da 7 e mezzo signori, se non li conoscete ve lo spiego rapidamente, il banco ha due carte e farà un ponteggio, noi abbiamo tre carte e dobbiamo cercare di battere il banco, qui troveremo il nostro premio, premio che può essere uguale a 7000 euro, tanta roba signori, se dovessi vincere 7000 euro non vedete più video sul canale, 700 euro idem, 70 euro, 40 euro, 20, 10, 7, 2 e 1 euro, se ci finisce bene signori vinceremo 1 euro, ma proprio, allora iniziamo a grattare, ho voglia di grattare, iniziamo a grattare, grattiamo prima col banco signori, vediamo che cosa ci esce dal banco, allora il banco c'ha 2, io non so se l'inquadratura è abbastanza buona, comunque ve lo dico io, qui c'è un 2 signori, la seconda carta del banco è un 3, ok, quindi il banco c'ha 3 signori, attenzione venghi non ne va più, ne va più, iniziamo a grattare da destra verso sinistra, attenzione, 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 dobbiamo riuscire a fare più di 3 signori, e già abbiamo preso un 2, 2, non è male, non è male, non è male, il 2 ce l'abbiamo, vediamo al centro che ci sta, al centro, dove cazzo l'ora, al centro ci sta un asso, abbiamo 3, ok, dai, 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 che ci sta qua, mezzo, perfetto, non abbiamo fatto un cacchio signori, primo gratte e vinci perso, abbiamo fatto 3 e mezzo, il banco aveva 5, avremmo potuto vincere 10 euro, e sputeci, sarei rientrato nelle spese, è il primo è andato signori, il primo ce lo siamo fumati così, veloce e rapido in dolore, secondo gratte e vinci, perfetto, allora andiamo col banco, dai, 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 crediamoci, mezzo punto, mezzo punto è buono signori, mezzo punto è buono, mezzo punto è buono, se lui c'ha 6 o 7 qui, però è una merda, c'ha 5, dai, 5 e mezzo si può battere, il 5 e mezzo si può battere, il 5 e mezzo si può battere, calma, sento l'ansia che sta salendo, partiamo dal centro, questa volta, sentiamo dal centro e abbiamo beccato mezzo punto, che culo, mezzo punto, non è per niente buono, mezzo punto non è per niente buono, andiamo a destra, a destra ci sta un 2, abbiamo 2 e mezzo, ricordiamo che a pareggio vince sempre il banco, quindi la prendiamo sempre nel fondo schiena, così, drastico, che andiamo a prendere 2, quindi abbiamo fatto 4 e mezzo, 4 e mezzo, il banco aveva 5 e mezzo, ma anche stavolta abbiamo vinto un tubo, signori, quanto avremmo potuto vincere? 7 euro, mi avrebbero fatto comodo anche 7 euro, saremmo rientrati nelle spese e invece non ci rientriamo neanche per niente, via il secondo, signori, via il rapido, soldatino, tu devi portare fortuna, non mi stai a portare nulla, allora, terzo gratte e vinci, signori, 5 euro giocati, finora nessuno vinto, allora vediamo con il gratte e vinci, il banco c'ha mezzo punto, la prima grattata il banco c'ha mezzo punto, signori, aspettate che ho grattato un po' meglio, che così si vede meglio, mezzo punto, attenzione, c'ha un fante e nell'altra carta c'ha 6 e mezzo, ma dai, ma stai scherzando, ma come cazzo non lo faccio a battere 6 e mezzo, dai, ma stai a dire davvero, e di qua abbiamo un 4, signori, un 4, un 4, attenzione, 4, 4, 4, attenzione, abbiamo 7, signori, abbiamo vinto, 4, 3, 6, 4, 5, 6, 6, 6, sì, non so scemo io, vedi se sballo, vedi se sballo, perché posso anche sballare, signori, vedi se sballo, l'unica volta che c'ho 7, vedi se sballo, 7 e mezzo, no, abbiamo vinto, signori, gratte e vinci, vincente, il banco c'ha 6 e mezzo e noi abbiamo, il banco c'ha 6 e mezzo e noi abbiamo 7 e mezzo, aspettate, ve lo faccio vedere bene, abbiamo vinto, signori, dai, 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 non è andata per niente male, vediamo quanto abbiamo vinto, signori, state pronti a fare il biglietto per il Brasile, ci sono due zeri, attenzione, attenzione, c'è la virgola, c'è la virgola, e c'è sta un euro, ma vaffan, ma vaffan bagno, signori, un euro, un euro, un euro, sono sotto di 4 euro, signori, altro biglietto, altro giro, altra corsa, va bene, vediamo che c'è il banco, non ci posso credere, non ci posso credere, allora, prima grattata, signori, 2 per il banco, 2 per il banco, 2 per il banco, seconda grattata, il banco ha 5, ma vaffan, ma vaffan, ma vaffan, il banco ha 7, signori, mi serviva il 7 e mezzo di prima, mi serviva il 7 e mezzo di prima, non lo faremo mai, però va bene, abbiamo la prima grattata 4, 4 non è male, 4 non è male, ma non è abbastanza, seconda grattata, abbiamo mezzo punto, abbiamo 4 e mezzo, ci farebbe un bel 3, un bel 3, pulito, pulito, che dite, lo troviamo il 3? Che dite? Che dite? Che dite? Che dite? Che dite? Che dite? Lo troviamo? No, troviamo il 2, ma che mamma, pensavo ci fosse un 3, signori, abbiamo fatto 6 e mezzo, per mezzo punto, mannaggia, che nervi, quant'era la vincita? La vincita sicuramente sarà stata di 2 euro, ma vaffan, ma dai, mi li potevi dare questi 2 euro, 4, 5, 6 e mezzo, il banco ha 7, questo non è vincente, signori, il soldatino non sta portando bene a nulla, soldatino mio, perché ti ho pagato, ultimo gratto e vinci, signori, ultimo gratto e vinci, attenzione, no, questo è il momento topico, signori, è il momento importante di questo video, ultimo gratto e vinci, attenzione, o la va o la spacca, siamo sotto di 4 euro, perché 1 l'abbiamo vinto, siamo sotto di 4 euro, prima grattata il banco ha 1, attenzione, l'inizio è buono, l'inizio è buono, il banco con 1 è ottimo, il banco con 1 è ottimo, signori, il banco con 1 è ottimo, basta che qua non c'ha 6, che di, oh, c'ha 3, signori, allora il banco c'ha 4, il banco c'ha 4, signori, attenzione, il banco c'ha 4, il banco c'ha 4, attenzione, attenzione agli atti, il banco c'ha 4, quanto c'abbiamo noi? Dai, 4, 4 si può battere, 4 si può battere se ti esce mezzo punto, 4 non lo batti nemmeno da lontano, dico io, mi ho preso il primo e mezzo punto, signori, prima carta mezzo punto, seconda carta è un 2, abbiamo 2 e mezzo, dai, ma che schifo, ma che schifo, abbiamo 2 e mezzo, ma dai, ma dai, 2 e mezzo non si può sentire, e l'ultima grattata abbiamo, mezzo punto, ma va, abbiamo fatto 3, signori, il banco aveva 4, noi cosa abbiamo fatto, abbiamo fatto 3, ma porca di quella miseria, signori, ma porca di quella miseria, la vincita poteva essere di euro 7000, 7000 euro, signori, saremmo partiti per il Brasile tutti quanti assieme, ha prepagato il biglietto a tutti, ma non ha funzionato, signori, l'unico biglietto vincente che continua a controllare, ma abbiamo vinto semplicemente un euro, è questo, che abbiamo fatto 7 e mezzo, battendo il banco che aveva 6 e mezzo, assurdo, e niente, signori, allora, io per questo video mi fermo qui, e siamo andati sotto di 4 euro, però va bene, è stato semplicemente per giocare e per scherzare, vi ricordo sempre di non spendere soldi, non buttare soldi, perché non si vince mai, è una prova, intanto, io ho fatto questo video per divertirmi con voi, e domenica prossima lo rifaremo, magari cambiamo gratte vinci, che dite, consigliatemi magari qualche gratte vinci nei commenti, e ve li porterò, somma massima, sempre 5 euro, signori, non ci spariamo, somme esorbitanti, detto questo, signori, grazie per guardare questo video, grazie per i like, per i commenti, per i suggerimenti, un saluto dal soldatino portafortuna che non ha portato un cacchio, quindi la prossima video non lo vedete più, sarà bruciato nel cammino, e noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto, bella raga, ciao! Ciao!